Io cercavo una soluzione che mi permettesse di incassare subito i pagamenti sul mio conto banco posta in proprio. Mi è capitato spesso che i miei clienti non avessero contanti, rischiando così di dover ritirare in seguito il pagamento perdendo molto tempo. Mobile Post è una soluzione facile e conveniente. Non ho nessun canone fisso mensile, ma solo un piccolo costo iniziale d'acquisto. Ho scoperto Mobile Post perché volevo dare ai miei clienti la possibilità di effettuare i loro pagamenti con la carta. Mi sono trovata subito bene perché è facilissimo da usare e i miei soldi vengono accreditati sul mio conto banco posta in proprio eliminando i rischi di gestire denaro contante. Nel mio lavoro la consegna a domicilio è fondamentale per andare incontro alle esigenze dei clienti. I miei ragazzi girano tutto il giorno tra una casa e l'altra e portano sempre con loro il Mobile Post di posta italiana. È leggerissimo, poco ingombrante, ma soprattutto sicuro perché gli incassi della giornata vengono accreditati sul mio conto banco posta in proprio. Meglio di così, il Mobile Post di banco posta permette di accettare comodamente e con la sicurezza di sempre le carte di pagamento anche in mobilità.